Noi oggi abbiamo una situazione regionale che non è meno pesante di altre regioni, però oggi noi abbiamo una situazione dove abbiamo 52 mila famiglie che hanno garantito l'abitazione, abbiamo 28 mila famiglie che sono in attesa di poter usufruire sia del Fondo regionale per l'affitto, perché noi abbiamo anche questo problema che è con la crisi che c'è, e i finanziamenti che mancano del Fondo nazionale per l'affitto. Io vorrei sottolineare, nel senso che nell'incontro che noi abbiamo fatto con la Regione Emilia-Romagna abbiamo chiesto uno sforzo alla Regione Emilia-Romagna sul bilancio regionale per poter mettere sempre più soldi sulle politiche abitative. È un momento particolare, un momento pesante e noi crediamo che comunque se a livello nazionale garantiranno i 32 milioni di Euro come sembra che dovessero garantire per la Regione Emilia-Romagna, credo che una risposta in più si possa dare. Teniamo conto che la Regione Emilia-Romagna, pur essendo una Regione ricca, ha i limiti vicini fra la ricchezza e la povertà, cioè se uno perde il lavoro in Regione Emilia-Romagna con il livello del caro vita, tutta una serie di cose, non è più in grado di pagare l'affitto, perciò ricorre certamente al fondo regionale per l'affitto sociale. Per queste ragioni noi intendiamo essere molto attenti con la Regione Emilia-Romagna e fare tutte le iniziative possibili per dare risposte. Una delle iniziative che stiamo discutendo con la Regione, sembra che la Regione e le autonomie locali siano d'accordo, è il recupero di tutte quelle abitazioni da riparare che sono di proprietà del Comune con un investimento da parte della Regione di 34 milioni di Euro e di 10 milioni che dovrebbero incrementare i Comuni, il recupero di 1830 circa abitazioni in più. Perciò questa è un'altra risposta che noi tentiamo dare in accordo con la Regione Emilia-Romagna. Lo stato d'animo non è certamente di quelli migliori, nel senso che oggi la gente è preoccupata di arrivare non più alla quarta settimana, ma alla terza settimana, se non si mette fine al rincaro dei prezzi e tutta una serie di cose. Come dicevo prima, nelle città o nelle regioni ricche il pericolo è sempre maggiore delle regioni povere, perché oggi in Emilia-Romagna c'è un livello di vita che è molto alto. Sappiamo che la crisi viene sentita anche dalla Regione Emilia-Romagna, perché oggi abbiamo molte aziende che chiudono. Questa situazione certamente crea preoccupazione, non solo per noi, ma per la cosa che io vorrei richiamare oggi è che dovremmo andare a ripescare l'accordo che noi avevamo sottoscritto con la Regione Emilia-Romagna e con le parti dattoriali di incremento anche da parte loro di quantità economiche che ci permettessero di dare risposta ai cittadini e agli immigrati. Oggi noi in Emilia-Romagna abbiamo bisogno degli immigrati perché vengono chiamati dai dattori di lavoro per i mestieri che oggi gli italiani non fanno, l'impegno era di dare le abitazioni che oggi invece non ci risulta, almeno come sindacato, che i dattori di lavoro abbiano messo sul campo risorse per poter dare una risposta a questo tema. Noi come sindacato molte volte siamo accusati di favorire questa questione dell'immigrazione, noi diciamo che i criteri sono uguali per tutti. I criteri sono la cittadinanza, sono il nucleo familiare, sono il livello di entrate nella famiglia ed è chiaro che se l'immigrato ha molti più figli degli italiani ha più possibilità di avere più punteggio che gli altri, però non è che ci sia un'agevolazione, anzi noi stiamo lavorando per integrare sempre di più rispettando chi rispetta le leggi italiane e facendo una battaglia per mandare fuori i delinquenti dal nostro paese anche se sono voi italiani o immigrati, cioè la stessa cosa, vengono trattati nello stesso modo.